Un rimpasto di giunta? Se sarà necessario lo deciderà il sindaco. Il segretario cittadino del Partito Democratico Giovanni Fornoni replica piccato alla richiesta della Civica Appello per Lecco di cambiare alcune tessere nel mosaico dell'esecutivo alla guida di Lecco. Siamo veramente sorpresi, commenta e non condividiamo la presa di posizione pubblica nel richiedere oggi il rimpasto di giunta. Questo è un tema delicato, prosegue Fornoni, e di assoluta competenza del sindaco. Nessuno può permettersi di dare congedo a un assessore piuttosto che a un altro. Il potenziamento dell'azione amministrativa della giunta, prosegue il segretario cittadino del PD, può concretizzarsi su iniziativa del sindaco Virginio Brivio, coordinata con la maggioranza, se si riscontrano in città disponibilità di collaborazione anche esterne, in grado di supportare con competenza e dedizione lo sforzo finale dell'amministrazione nel conseguimento di importanti obiettivi strategici da qui al 2020. Fra le righe si intuisce che anche il PD condivide con la Civica la necessità di aggiustare il tiro dopo i primi anni del secondo mandato, ma da qui a silurare assessori ce ne passa. La delegazione in giunta del Partito Democratico, prosegue Fornoni, ha operato bene con attenzione e competenza e rispetto delle indicazioni politico-programmatiche presentate agli elettori nel 2015 e via via affinate durante questi primi tre anni di mandato. Se il sindaco proporrà delle modifiche, queste saranno condivise e comunque il PD per il ruolo che gli elettori gli hanno assegnato, rivendica la piena responsabilità dell'azione amministrativa. Unico punto d'incontro con la Civica, la dedicata vicenda della delega allo sport. Dopo le dimissioni dell'assessore Gezza, il PD, aggiunge Fornoni, ha chiesto immediatamente la sua sostituzione. È un settore importante su cui abbiamo investito molto e purtroppo le note vicende del centro Bione hanno messo in luce una difficoltà, non di poco conto che la Giunta ha affrontato con la delibera a cui oggi bisogna dare attuazione. Poi c'è tutto il tema del rapporto quotidiano con il ricchissimo panorama associativo di società sportive presenti in città. Anche su questo, conclude Fornoni, il PD è pronto ad assumersi le responsabilità che gli competono e il sindaco può contare sul nostro aiuto al 100%. Grazie, grazie. 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 Grazie.